Il fondo Carlo Savina è il primo fondo completamente strutturato dove contiene tutto, musica accolta, musica per film eccetera, c'è tutta una documentazione, ci sono tutti i brogliacci, partiture, iscrizione sciai, dialoghi con il regista, incavolature con il regista che voleva scrivere, voleva certe cose, lui lo faceva, ma di solito lui metteva una firma sull'ultima pagina e ci sono molti riferimenti alle desiderate, fatto perché lo vuoi tu, la cosa rimaneva in casa ma lui era al compimento della sua opera, l'ha fatto ma l'hai voluto tu, quindi questi sono un elenco dei titoli, una pagina delle sue partiture, e lui scriveva, non aveva accennato prima, a penna e a penna colorate perché nel film molte cose già scritte prima, 5, 10, 15, 20 battute, il tema di lui o di lei o qualche altro riferimento veniva preso e rimesso in un'altra parte del film collegato ad altre musiche, quindi il fatto che per le scritture era il fatto, era perché il copista sapesse che quelle battute dovevano essere richiamate per un altro punto del film. E' stato direttore d'orchestra, era affascinante assistere ai dialoghi Fellini-Rota quando il maestro Fellini parlava a Nino Rota che seduto al pianoforte suonava e nel parlare il maestro Rota seguiva quello che lui diceva, ogni tanto Fellini si fermava dicendo ecco questo è quello che voglio, il maestro Rota lo guardava con la sua faccina candida dicendo non mi ricordo cosa ho suonato, e allora lui ricominciava e se notate nei temi, i temi di molti film Rota e Fellini sono nomatopeici, io ero presente in una di queste cose per cui lavorando in sala mentre loro studiavano un po' così e mi diceva Federico vai a prendermi un pezzo di carta e portami una matita, arrivavo e lui tracciava cinque righe e diceva Nino adesso me lo scrivi. Il fondo Donato Salone è stata una cosa interessante che pone un po' in imbarazzo perché Donato Salone riceveva la musica magari a mezzanotte e alle nove era tutta copiata alle parti per l'orchestra, quindi c'aveva uno staff di persone che lavorava a giorno e notte e molte partiture sono rimaste presse di lui e lui mi aveva chiamato poco prima che ci lasciasse dicendo o mi svuoti l'ufficio o butto tutto. Pochi giorni prima che questo succedesse, grazie alla biblioteca, andammo, prendemmo 38 scatoloni alla rinfusa di tutto e dove ci sono ancora le partiture originali di tutti questi maestri che voi leggete e ci sono o tutte le partiture e le parti di orchestra o le parti di orchestra solo o solo le partiture. Avere le parti di orchestra vuol dire che queste musiche potrebbero essere prese e immediatamente registrate, cioè risuonate perché il problema è che oggi non essendoci più uno non pensa che qui si può trovare le partiture già pronte ma oggi assisto a delle cose per cui si tira giù da un film, si tira giù dalla colonna sonora di un film la musica per essere rieseguita ma io che l'ho registrata assolutamente non ha il sapore che aveva quella volta. Poi abbiamo il Fondo Lavagnino, abbiamo tutte le opere scritte e non sapevamo per esempio di avere qui anzi l'avevo registrato ma me ne ero dimenticato io stesso le musiche dei provini dell'ultimo film, il mercante di Venezia che è stato presentato a Venezia e per un insieme di circostanze venne fuori un nastro e su quello c'erano incise le proposte musicali che il maestro Lavagnino aveva proposto a quel film. Andando dietro a quello che io conoscevo del maestro che lui adottava sempre sonorità nuove eccetera sono venuti qui a Roma e hanno ripreso questi nastri incisi, le hanno predisposti sulla scena e un film che era completamente muto perché quasi tutto muto perché non avevi soldi per pagarsi il fonico lui si è girato un venti minuti del film però è successa una cosa strabiliante mi permetto di dirlo perché sono quelle cose che fanno parte di quanto succede dietro lo schermo lui aveva prodotto come regista e attore nel 1938 un mercante di Venezia a Londra che per combinazione era stato ripreso solo audio dalla BBC è stata presa la registrazione di questa registrazione del 1938 messa sul film dove lui parlava erano quasi al 95% esattamente in sincrono cioè un autore che a distanza 1938, 2016, 2015 rifà una cosa ed è quasi la fotocopia ovviamente nel film mancano certe scene girate per cui è stato messo il suono continua è stato messo il cartello missing, il picture missing eccetera però queste sono esperienze che sono molto belle e qui si possono fare anche qui ci sono i faldoni tutti preparati del maestro il maestro Lavagnino aveva un'abitudine di scrivere in codice che è la cosa più difficile per capire tutti i riferimenti che lui ha poi se lo scriveva su librettini piccoli e particolari un librettino da buongenovese fino a che non era arrivato all'ultima pagina continuava a mettere film allora avendo i faldoni, avendo le indicazioni in codice che stanno in un posto gli altri in un altro è un po' difficile sono spariti per esempio certi grandi direttori d'orchestra per musica da film il maestro Ferrara, Previtali, anche lo stesso mio fratello che avevano un'abilità di riuscire a prendere un sincrono a 5 secondi dall'inizio 1.3.22 e 1.6.48 dovendo arrivare in tempo devo ringraziare anche personalmente come famiglia la biblioteca perché hanno voluto dedicare un libro un piccolo libro sulla sua attività da professionista personalmente Carlo Savini diceva io scrivo perché sono l'unico che può oggi scrivere una partitura dirigerla, registrarla, inserirla in un contesto andare a casa e risentirla io sono felice per molti altri musicisti invece è stato un tormento che si ritrova nelle lettere dove è uscito il film devo anche dire una cosa che se in un film si sente la musica vuol dire che il fotografico manca qualcosa grazie grazie